ciao ragazzi mi chiamo carlino questa sera ore 21 c'è il fantasvia venite tutti a trovarci da svideogame c'è carlo svideogame e tutti i partecipanti a presto eccomi qua ragazzi eccomi qua ragazzi questa sera ore 21 fantas via io il video e i partecipanti siamo tutti venite venite vivendo in tanti perché io lo apprezzo moltissimo sono questa sera alle ore 21 nel canale di svideogame fantas via ragazzi non mancate venite tutti da bene tutti che ci sono gli audizioni ci si diverte facciamo un sacco di imitazioni poi c'è il video che vi dice cosa dovete fare e ragazzi mi raccomando poi ci sarà dai porterò anche il mio amia mascotte carlino eccolo qua ve lo presento questa è la mia mascotte venite tutti mi raccomando vieni anche tu è carlino non manca sì vengo anch'io ragazzi dai io vi voglio bene sarete tutti sempre qui nel mio cuore buon natale buon anno tutto quello che vi pare pure se la cura di abbonatale anche se poi il ritardo domani è capodanno quindi divertiamoci perché sennò quando si diventa anziani non ci si diverte più no scherzo che si diverte sempre dai mi raccomando a presto a presto venite tutti al fantas via di svideogame dai ragazzi gg game